Sono Benedetta Roiati, ho 29 anni, vengo dall'Appennino Centrale, in realtà ci sono rimasta anche se momentaneamente vivo a Milano. Comunicazione interna, comunicazione diciamo di impresa, brand storytelling, un po' di scrittura creativa, un po' di pubblicità, un po' di organizzazione di eventi. Era una grande scuola di contaminazione, principalmente. Il festival di corti di fantascienza che noi studenti di brand new del secondo anno abbiamo organizzato in modo un po' artigianale, un po' così alla buona, raccogliendo corti di ragazzi under 30, mi pare, da tutto il mondo. Poi sono venuti qui anche due dei registi dalla Spagna che hanno fatto dei piccoli workshop di cinema, quindi oltre alle proiezioni dei corti in concorso c'erano anche le proiezioni dei corti di laboratorio. È stato appunto il momento per iniziare a poi immaginare dei futuri diversi e divertenti e anche per sperimentarsi con gli scazzi, le difficoltà, le mail, le cose dell'ultimo minuto. Credo che sia il modo per disegnare dei discorsi e trovare le connessioni con il tuo interlocutore per quanto lontano possa essere. È il modo appunto per costruire insieme qualcosa e lo puoi fare soltanto se hai una base di narrazione condivisa. Lavoro in una società di consulenza di Milano, anche se in realtà possiamo lavorare abbastanza sparsi per il mondo. Io mi occupo principalmente un po' di fare ricerca su quelli che possono essere gli scenari futuri per le aziende clienti e un po' costruire dei percorsi che aiutano le aziende a raggiungere questi scenari. Quindi diciamo che selezioniamo il futuro che ci sembra più adatto a loro e che ci sembra più adatto a noi, anzi più principalmente a noi e anche il percorso per arrivarci. Siamo un pochino visionari, un pochino ricercatrici e un po' designer.